Ciao a tutti! Bacioni enormi dalla vostra nica! Sì! L'ho trovata un'altra volta! Allora, 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 per chi ha visto il video precedente di patatine delle LOL Surprise sapete che ho trovato tutti i fantastici tatuaggi che spiaccicherò su qualche foglio di agenda però io volevo gli sticker, sapevo che erano arrivate anche le patatine delle LOL, la versione con dentro gli sticker sono andata a Lauscia di Curno, per chi è nella zona l'interessa, l'ho trovata lì anche l'ultima volta l'ho trovata lì perché ho girato mezza Bergamo, mezza paesi in parte tutti i paesi di Mitro, ho fatto girare il mondo mio marito, dopo finalmente lo trovate all'Auscia e infatti stavolta mio marito fa, andiamo lì perché sicuramente le trovi lì, infatti le trovate e sono queste qua, vedete, il pacchetto è diverso da quello dell'ultima volta, c'era su solo la Diva ed era Fucsia questo invece c'è, non mi ricordo il nome di lei, fantastico, Diva e Rocker e c'è, come leggete qua, subito per voi, uno sticker roll box, fantastico e mi pare che ce ne siano quattro tipi con praticamente la quantità di sticker diversi uno dall'altro vediamo se la Nica troverà tutti i doppioni, ma fa niente, va bene lo stesso perché è da attaccare l'agenda attaccare tutte le parti, riempio tutto il mondo di sticker dell'Aul adesso andiamo, allora sono sei pacchetti perché sì, sei pacchetti gli ho pagato i 79 centesimi, ve lo dico, perché so che qualcuno l'ha presa e l'ha trovata a 99 addirittura niente, apriamo il primo e andiamo a vedere il nostro regalino quanto ho di tutto, ma quanto è bello e poi vabbè, la patatina e la rustica questa qua ma è educazione, parlai con la bocca piena, ma tanto non mi vedete, mi sentite penso che sia la stessa cosa, fa niente buone e vabbè, quelli non ce ne sono dentro, una quantità industriale perché giustamente se già devono metterci dentro questo scatolotto qua non si chiuderebbe il pacchetto infatti la quantità è proprio meno della metà però ma niente, dopo io le metto tutte insieme, sei pacchetti madonna mia santa allora apriamo il primo e vediamo che abbiamo lei che inizia, però aspetta, voglio chiedere una cosa apriamone subito un altro perché avendo visto altri video voglio vedere no, e questo ancora no, vedete che qua per dire apriamo questo secondo eh inizia con un altro sticker perciò credo che il gruppo di sticker sia diverso da quello che ho capito vedete che sono uguali? no, sono due vedi che inizia con la bamboletta diversa adesso vediamo le apriamo, vediamo come sono allora certo che però potevano evitare di attaccare questo si rovino uno sticker ma salati preziosi allora vediamo facciamo così mettiamolo girato lì in sotto se no mi si appiccica a tutte le parti apriamo la prima che voglio vedere tutto il rollino si non ce ne sono una quantità industriale sapete che se aspetta mio marito faccio fare un attimo quella scatola lì con rosa grazie vedete che è tipo la versione più piccolina vi ricordate i miei innumerevoli unboxing di uova delle pasqua di cioccolato delle lol e avevo voluto di tutto fatto di tutto e di più comprate non so quante 20-30 uova per trovare gli sticker e vedete che la versione più piccolina penso che più o meno siano uguali però forse cambiano cambierà penso almeno gli adesivi gli sticker che sono adesso vediamo facciamo così infatti si sono diversi vedete che qua c'è tutta proprio la parte si si sono tutti diversi dai dai bene o male sono carini dai mi piacciono dai belli adesso andiamo a aprire anche le altre perché sono curioso anzi questi qua li sistemiamo dopo poi vediamo gli altri come come inizio dai però anche nella scatolina così anche per le bambine come me capito vale come sopra no dai questa vale come sopra poi 79 centesimi vabbè non è 74 79 se non vale sì vabbè se ne è 74 vediamo e questo vedete questo inizia con un altro adesivo con la scritta lol penso che forse non lo so dal disegno dietro vedete che c'è quello che inizia con la scritta lol quello che inizia con lei allora ci sono 4 diversi mi manca quello che inizia con rocker con la facciotta di rocker adesso vediamo sicuro sui pacchetti se no pazienza amore non preoccuparti non te ne mando a comprare ancora vabbè mica da mangiare cosa mi interessa allora aspettate allora andiamo a aprirle comunque ci sono le patatine sì infatti e scusate sono buoni questi sono buoni questi sono buoni questi apriamo anche il quarto e vediamo questo vedete doppia abbiamo anche il quinto e il sesto poi andiamo a vedere anche questo qua com'è che buoni che sono sì dai che ce le ho tutte rocker inizia con la testolotta di rocker che è fantastica che ho quella lol e l'ultimo l'importante non trovo la cestuglia no l'importante ma per me riptide arriva in questi avete capito che in questa casa qua non adoriamo riptide io ce l'ho nella mia postazione insieme a tutte le lol perché giustamente ce l'ho però ne ho tre doppie insomma ragazzi dopo che le vedi tre o quattro volte dici basta però adesso andiamo a aprirle tutte dai li ho trovati tutti che bello che bello poi c'è da sbizzarrirsi voglio fare un'altra settimana lol perché mi è stata richiesta e dopo io li uso insomma dobbiamo aprire questi due perché gli altri sono doppi e questi qua vediamo come sono gli sticker dentro ah dai le hanno fatte carine queste sì quelle della volta scorsa diciamo che i tatuaggi così vabbè io li bagno comunque li metto su sulle pagine sui foli sulle agenda così giustamente ho 40 anni non è che vanno in giro con i tatuaggi delle lol sicuro però questo qua è un regalo un po' più carino perché comunque sono sticker io penso che anche per le bambine a me le bambine si fanno il tatuaggio vanno in giro adesso poi è stagione di mare così mettono sul tatuaggino della lol ci sta anche ma per una di 40 anni no va bene guardate che corine no adesso sono bellissime ci sono proprio tutte eh questa è la versione della serie 1 questa si è sì 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 perché c'è la gattina che belle che sono io questa ce l'ho ma non in quella versione lì con fatti pop glam e poi questo sì sono tutte diverse almeno a parte bambino se trovi il doppio però è vero ci sono 4 scatolette che potete trovarle con appunto 4 rollini di sticker uno diverso dall'altro bene bene dai belle mi piace mi piace sono contenta bello unboxing adesso mi mangio le patatine tanto per cambiare tutte? no tutte no perché sono anche le bestioline di là che le vogliono niente ve le consiglio sì che dire dai le patatine si mangiano non sono soldi sprecati tutti 4 sì perché questo qua sono quali doppi le avevo già fatti vedere perciò non è questo qua tirarli fuori vedete questo e questo qua che inizia con lei che non mi ricordo il nome ditemelo e poi vabbè li ho trovati tutti e 4 e due doppi vabbè pazienza e niente fatemi sapere se anche voi le avete trovate le avete prese cosa che sticker avete trovato insomma mangiate le patatine che non fanno bene non sono salutari però ogni tanto per merenda ci sta le do anche i miei figli sboccherete no ma poi chi non mangia le patatine ok che sono non sono appunto salutari però fa niente niente basta che dirvi sono della salati preziosi lo trovate lì per chi siete nella mia zona che magari diventate mati come ho fatto l'ultima volta a trovarle a Lauschan vi ricordo di Curno di Curno perché di Bergamo quello di Bergamo non c'erano e niente fatemi sapere sono qua pronta a rispondervi ciao ciao ciao